Sì, dovrebbe essere partita. È bella a tutti ragazzi, ho letto dal titolo Watch Dogs 2 ragazzi. Che non potrò far tanti live video amico, però se poi a voi vi gusta potrei anche prendervelo. Ehi, cos'è sta storia di Bobo DeX? Bobo Natale. Sì, lo sentite. Oh wow. Quello stronzo di Jim Carcani ha pagato. È un grande fan di Bobo. Probabilmente vuole appendere l'album al muro, tipo un trofeo. Ci sta solo sventolando il peso di faccia. Un trozetto. Non ha ancora annunciato nulla, ma lo farà. Ok. Forse c'è ancora tempo per intervenire. Si dovrebbe vedere. Ma che cavolo. Sentevo un rumore strano. Vabbè, scialla. Allora, cosa dovevamo fare? Facciamo un pochino di storia, anche se non so cosa devo fare. Dovevo andare qua. Da questa cosa qua. Quindi, ordiniamoci una macchinina. Raga, l'ho appena iniziato. Proprio oggi è basta. C'è questa qua, con una verniciatura della Madonna. Aspetta che abbasso l'audio di gioco, che mi sta a spaccare le orecchie. E non sento quando parlo. Comunque... Verrà che bella macchina, cazzo. Che verniciatura epica. Poi andiamo a prendercene un'altra. Oh, ce l'ho pure, raga. Hello, guys. Vabbè, scialla. Sì, dov'è? Dove, dov'è? Mi ha tolto la destinazione, veramente? Vabbè. Chi è? C'è un'unica in partita. Ma raga, io non ho PlayStation Plus. Perché si deve baggare? Chi è Colt? E' sparito. Tutto normale, tutto secondo i piani. Giusto, dovevo fare così. Fidatevi, vabbè, facciamo sta cassa di missione. Ok, 500. Poi facciamo di seguire dalla pula. Perché sì. E poi basta. Ho fredato strada. Che genius. Ah, genius uno. Ho grattato i bagaglioli. Allora. Parcheggiamo la macchina in modo... Ok, così parcheggerà bene. Dobbiamo andarla su, eh. Ehm. Ragazzi, duramente le live non posso fare... L'optify. Ma che cazzo sta guardando lui? Ma sì, ma che problemi hai? Cioè... Dimmi quanti problemi puoi avere. Chi sta guardando? Gesù Cristo sta guardando, non ho capito. Oh, comunque... Ciao Frankie. Ciao Fabi. Ma tu hai visto in un video di It's Matrix? Si chiamava così, tipo lo youtuber. Mi sembra, eh. Ma lo dobbiamo uccidere? Non ho capito, lo devo uccidere. No, raga, ma c'è la pula. Cazzo, c'è la pula. Siccome ti sei permesso a distruggere la mia macchina... Ma cosa fai? Eh, non ti permettere. Bella, si vai così. Perfetto. Cioè, come cavolo si permette lui? Vabbè, io lo uccido, raga. Non lo posso uccidere, mi dice la It's. Ma come faccio ad andare lì su? Questo è un dilemma. Passenti qua. Così io asciamo. Non mi farò passare. Perfetto, bella merda. Devi fare il giro. Eh, infatti lo sto guardando. E in effetti, forse se si fa parkour... Oh! Forse devo far sedere qua su. Fare attacca... Eh, è sicuro. È così, beh. Vabbè che genius. Guarda che genius ragazzi, ma dove lo trovate un parkourista del genere? Tu, 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 ti, 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 ti. Lui che non se ne accorge. Sì, ma c'è uno dietro che, cioè, ti guarda il culo e te ne aggira. Cioè, allevarti to un bagaglio strano. Vabbè. Se vuoi sapere di quell'auto speciale... Sta facendo la cacca insieme. Come Jimmy Sysky l'auto speciale. Ma che faccia a questo qua? È bellissima la sua faccia. Lo sapevo. È bellissima la faccia di quello. Adesso si ragiona. Come è fatto? Vai. È arrivato un messaggio. È arrivato. Oh, wow. No, ora, oh, zico, cavolo, sono in cielo. Parkour stunt. Eh, lo so. Mi sono so sbagliato. Dai, ma perché gli ha inviato un video? È bello, è strano. Il GPS... Eh, ah, l'ha ricattato con un video? E lui manda il GPS dei bagagli shell, ok? Quindi... Doveva andare da quel pro volare, mi sa. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Sì, ma... Mmm... Nadal Park ti trovi. Ma lo so, zio. Ordiniamo Nadal Big Macchina. Perché sì. Condividete la live. Autosportiva. Tac. Oh, no, dai, qui, gliela. Dove c'è la parcheggiata? Qua dietro c'è la parcheggiata. Ma che stronzo. Poi faccio vedere la mia galleria. Oh, c'è la pula. La pula, la pula, la pula. Usciti, c'è un cagnolino. Eh, vacci col bus. Ok. No, ma perché c'è la pistola in mano? Ho felato. Dov'è il bus? Dov'è, riste, bus. Questo bus. Fermati! No, mi sa che non possiamo andare su questi, eh. No, non ci possiamo andare su questi, purtroppo. Però c'è anche un questo, ragazzi. Adesso scatta l'allarme. Bravissimo. Un genius. Sper. Oh, wow. Oh, wow. C'è un genio, raga. Wow. Vabbè, andiamo a sto punto, sto posto qua. Oh, c'era la pula, l'ho fatto veramente davanti alla pula. Parcheggiamolo in modo perfetto il camion. Così è parcheggiato bene. Mi scusi, mi scusi, signora, non lo faccio più. Non lo faccio più, signora, glielo giuro, glielo prometto. Ma ti giuro che non lo faccio più. Eh, signora, chissà. No, ma chi è quel deficiente di che l'ho ucciso? Ma no, ma chi si sta uccidendo anche questa? Raga, no. Ecco. A genius siamo. Raga, questa qua la perdiamo subito. E' questa qua l'auto. Ah, no, è qua dentro. Dai, 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 cazzo. Dai, eh. Cosa c'è? Mi stanno uccidendo. No, raga, che cavolo è sta bagaglia qua. Mi è entrato senza che nessuno gli dico. Vabbè. Ma c'è. Oh, shit. Oh. Oh my god. Scusate, è una cosa qua, è una cosa epica al 100%. Conveccialla. Dai, facciamolo. Eh, scusa, scusa, scusa. Sta macchina qua è bellissima, ragazzi. Mi serve velocità. Gli serve velocità, gli serve. Mi sa che stavano in contromano, eh. Ma non ne sono sicuro. Eh, cazzo mio. Eh, cazzo mio. Eh, picca. Uh, li sto guardando in basso, cazzo. Dai, puro l'elicottero. Oh, cosa fa il simonello. No, questa è la motociclista epico. Raga, l'ho già rotta. Posso fare questo, però, io. Pac. La tua facciata è troppo scura per i miei sensori. Leva di dal cazzo. Dai, vedi calibrare i tuoi sensori. No, no, riferiti a noi. No. No, ovviamente no. Dov'è? Ho, ho, ho. Ma che dici che sono scappato? Raga, come farsi beccare dalla pula? Semplicemente. No, avete sempre mani e piedi nell'occhio del ciclone. No, non volevo andare qua dentro. Allora, devono, insieme faremo famiglia in città. Eh, già, quella non è in fuga. Dai, franci, stai ascoltando. Sono una smart car di farcita di Nick. Ci sta tantissimo andare qua con una moto, enduro, cross, ok. Vuoi dirmi che l'auto ha citato i fi? Sì, ho, shit. Raga, dai, che abbiamo fatto, siamo fuggiti. Però dobbiamo andare, eh, duemila metri da qua, eh, dobbiamo andare. Si è messi bene, eh. Vabbè, scialla, ci andiamo. Ma va forte sta qua, eh. Io sono Devon, Devon, Devon e sono... Tu non sei Devon. Devon, 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 è bello ed è moro. È bello ed è moro. No, no, raga, no. Sono un coglione. Sono un coglione. Come essere coglioni nella vita. Ecco, fatto qua, questo. Perché devo essere così coglione, raga? Ma perché, ditemi? Perché c'è un cervello lì dentro? Dimmi il perché, il motivo di questa cosa che a me non custa per niente. Ma vabbè, comunque... Alibito. Io sono alibito. Pescialla. Dai, cazzo. Ok. E muoviti. Ok, dobbiamo... Adesso... Dove dobbiamo andare con la parte d'alberto? Ok. Dalla parte d'opposto dobbiamo andare. A tutta l'unità, inseppiamo un veicolo rubato dagli strumenti. Cioè, di qua. Gioco fottuto. Tac, tac. Mi serve una mano. Mi serve velocità. La, la. Da sotto il The Big Ponte. Ancora? Ma tu non sei autorizzato? Mi autorizzo da solo, cazzo. Bravo, bravo. Raga, ho un bellissimo raffreddore. Proprio bello. Ma vabbè. Che taglie. Non puoi fare questa parte. Prenditola dall'altro lato. Centrale, vi serve un controllo. Ma siamo dentro i film, state inizia. Allora... Da quando è lontano sto posto qua? Sì, però scusami, non è giusto. Mi fottono tutti. La tua faccia è troppo scura per i miei sensori. La tua faccia è troppo scura per i miei sensori. Devi ricalibrare i tuoi sensori. Non riferiti inizio. Boom. Esploso. Fase spodere due macchine. La The Big Pula. Dai, siamo in fuga raga, siamo in fuga. Dai che ce la facciamo. Vabbè, andiamo qua. Sì, ci siamo usciti. Siamo usciti. Quanto è lontano da qua? No, 2 mila a 90 metri. Quella non era una battuta del film. Branch, stai ascoltando? Qua c'è una Lambo. Raga, una Lambo. Come l'ho schivato questa. Vabbè, dettaglia, raga. Ma non ha le marce stamattina. Ah, no, ci piace la città. Sì. Ok. Oh, wow. È così in maniera. Wow, wowissimo. Ok, allora, non ci manca troppo. Se forse non mi distruggete la macchina. Ma questa se uno fa così, come fa? Spera. Oh. Per dire la città. Oddio. Oh my god. Cioè, ci stava tantissimo in questa partenza. Non mi dite di no, cazzo. Io voglio la Lambo, però devo portare prima questa cazzo di giofeca. Là c'era una Porsche. Qua c'è un taxi. È il taxi. 800 metri, non manca un cazzo, dai. Siamo praticamente arrivati. Arrivati, 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 arrivati. Senza schiantarsi proprio adesso. Ok, dovremmo esserci, eh. 3, 2, 1. 1 e mezzo. E arrivati, perché sì, adesso dovete sapere che c'è lo 0. 0 e mezzo. E tac. Bellissimo. Cioè, non mi ho fatto fare la parte Zepic. Eh, ma vaffanculo. Schifo su lezzo. Ce l'abbiamo fatto. Cazzo, quest'auto, eh, quest'auto è davvero incredibile. Sì, beh, complimenti alla Galilei che ha pioppato questo catorcio agli studios. Catorcio? Hai sentito? Non sono solo comandi vocali. Cioè, va bene, ha bisogno di una, di una bella ripassata, ma dare risolvere ai renti. Lo sai quanto c'è? Ma adesso, scusate, è nuova. È come nuova. Prima non era come nuova. Beh, insomma, l'ho distrutta, l'ho mezza distrutta però. Vale uguale. Sì, vaffanculo, stronzo, vaffanculo. Eh, le parole. Sì, sono progettata per guidarsi da sola, ma qui non c'è niente e non è calibrata. Ha potenziale, ma non è al massimo. Non è un catorcio. Gito? Cos'è che ti dico sempre? Pensa positivo. È solo stupida. Che tristezza. È questo il piano. Pensi di poter fixare una smart car? È troppo? Come si fa a fixare qualcosa? No, ho failato! Quanto posso... Ma perché c'ho adesso? Cazzo... Già in fuga, sciala... Dovete intervenire subito! Raga, però anche quanto sono un coglione. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Quindi... Eh, e mo? No, raga, non so che cosa devo fare. Tu! 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 Mi puoi dare una mano? Parla. Parliamo. La gente è ancora spaventata dalla sorveglianza domestica. Ormai esiste da anni. Forse ma c'è differenza tra l'essere preoccupati e scoprire che è peggio di quello che si temeva. Raga. Quindi o l'accettano o modificano tutti i dispositivi elettronici per interrompere le segnalazioni. Non credo che i molti sappiano come fare. Cioè, scusa, tu non mi stai vedendo? Ero un'aggina wiki. Inizio dalla Aum. Posso chiuderla? Cioè, lui non mi ha veramente visto. Ma quanti problemi questa gente ha? Adesso cosa devo fare? A genius. Devo andare qua. Sì. Devo andare qua. Proprio qua, proprio qua. Taglie. Salici. Eh, non mi fa salire. E dai, mi ci vuoi forse di... Allora... Parliamo con lui che è più intelligente, lui. Sei qui per vedere la magia? Allora guardami mentre sono all'opera. Se vuoi la magia... Oh oh! Io sono più... Sì, saltiamo. Ok, forse adesso ci riusciamo a salire. No. Ma addio santissimo! Mi vuoi far salire? Tu cosa sai? Voglio bucargli le ruote. Eh, le ruote non gli si bucano. Ok. Raga. Se forse... Ah, forse devo aprire... Quest'app. C'è uno. Cosa devo fare? Forse così. Vediamo. Ah, le ha presenza. Le voglio questo. Sta facendo questo forse. Dobbiamo fare questo forse. Ok. Adesso la posso guidare. Cosa devo fare? Ora che non capisco che cazzo devo fare. C'hai soldi? C'hai molei? Ho preso dei soldi. 221 soldi. Eh, soldi. Ecco, euro. Scialla. Dai, posso uscire? Posso fare qualcosa? Posso, non so. Forse devo aprire questo. C'è la persa. Passo qualcosa. Eh, ancora. No, vabbè. Dai! Cosa c'è qua? Raccogli. Ma perché c'è uno morto? Cosa? Mara? Cosa? C'era scritto più 4.000 e qualcosa. C'era scritto. Cosa? Oh my god, quanti soldi ho? 30.000! Raga, andiamo a fare... Raga, ok, questo episodio sarà che dobbiamo raggiungere tanti soldi per comprarci la Lamborghini. Eh, ce la pula. È arrivato un messaggio. Luuu. Oh. Andiamo qua. Che non ho ancora capito come funziona, ma vabbè. Comunque. Allora. Sei passato con il rosso, madonna, ma che... Ma sì, ma c'è la pulizia qua, deficiente. È la pulizia questa. Aiuto, c'è uno che spara, aiuto! Ah, non è la pula. Ma... No, no, dai sì. Oh, all'ultimo! Raga, all'ultimo! Oh, non ci credo. Signorina... Eh, ciao. No. È arrivata la del big pula. Eh, vedete che la pulizia questa? Ah, no. Noi sono persone belle. Facciamo tra le centrale. Lo vedete? Sì che lo vedete. Sì che lo vedete, dovevamo raggiungerlo. Signora, cosa fa? Mi schede, mi spiglio, porca miseria, cosa fa? Ma non ci provi mai in più, eh? Oh, beh, ecco, questo è quello che si merita, dai. Signore cattivo. Tutto questo era, signore, per colpa di uno... What the hell? No, che è che mi spara? Chi è il mola che mi spara? Schifo! Qualc'è l'altro della pula? Quanto ci può stare? Questo viene investito. No, adesso voglio andare in un posto dove si fanno dei money. Andiamo dalle società dove ci sono i money. Dai, tipo... Tipo questa. Non qua. Con l'auto della pula. Dai! Eh, ma vi avevano aperto per tutto questo auto di merda! C'hanno ripigliato. Eh, ma figuriamoci. Adesso esplode tanto. 3, 2, 1. Non esplosa veramente? Ma porca miseria. Come ha fatto non esplodere? Scamiseria. Ok. Pezzi di merda sono il tuo amico. No, fei... Ho failato, guarda, come a distruggerti da macchina. Tac, non dovevo andar di qua. Scamiseria. Tove, Kamayoko, Kusuka, Plamo. Eh, io voglio andare qua, sì. Aspettate. Faccio una consegna. 3 secondi. Vai via. Devo passare. Risparo! Non riesco colpirlo. Vediamo, centrale. Questo ci ha seminato. Voi in giro per cercarlo. Eh. Perché? Ma hai attirato la loro attenzione. Puoi provare a seminare sia loro che la polizia. Oh, eh, c'è i soldi. Oppure... Sparazzate. Più c'è il 67. Vestito! 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 Vestito!